Auto finisce fuoristrada sulla 106 a Crotone, tre morti e un ferito grave. È salito a tre il numero dei morti nell'incidente stradale avvenuto sulla statale 106 nel territorio comunale di Crotone. Uno dei due feriti è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate. Le tre vittime sono cacciatori della provincia di Reggio Calabria, che erano di ritorno da una gara di caccia svolta nella zona addestramento Cani, località Fatagò, nel comune di Ciro. Le loro generalità non sono state ancora confermate dalla polizia stradale. L'auto a bordo della quale viaggiavano un pick-up Ford Raptor di colore blu, per causa in corso di accertamento, è finita fuoristrada in modo autonomo in un tratto rettilineo della statale 106. La vettura è finita poi in un canale di scolo profondo circa 10 metri e nell'impatto con il muro l'autista e il passeggero che viaggiava nel posto accanto sono deceduti sul colpo. I loro corpi sono stati estratti dai vigili del fuoco di Crotone, che con una gru hanno dovuto sollevare l'auto dal canale di scolo per procedere al recupero delle salme. Le altre due persone a bordo del pick-up sono state trasferite all'ospedale di Crotone in codice rosso. Uno dei due feriti è poi deceduto. Sull'incidente indaga la polizia di Crotone. La statale 106 è rimasta chiusa al traffico, il tempo necessario per il recupero dei cadaveri rimasti nell'auto. La statale 106 è rimasta chiusa al traffico, La statale 116 è rimasta chiusa al traffico. Le cibo 12 tastoni değer o Grazie a tutti.